musica Glippito! Sto qua! Ah, stai! Qua! Non dov'è ancora inventare? Non dov'è ancora inventare? Ah, la posta! Mamma, da dove vieni? Stavo nei segreti. E ora mi raccomando, eh? Non lo sa nessuno, perché siamo segreti. Ok. Scusa, che stai facendo? Sto mangiando le nocelle. Posso? E una e basta, eh? Guarda quante ce ne stanno. Oggi dovunque vedo le nocelle. Una e basta. E una ne ho presa. Giù nelle segrete c'è un sacchetto pieno di bucce di nocelle. Sì. Chissà chi siete mangiati? Io. Tutti siete mangiati le nocelle che stanno giù? Sì. E queste nocelle? Una. Sono due? Sì. Quelle sono due? Sì. Queste nocelle sono due? Sì. In cucina, se stanno le nocelle sono due? Sì. Le nocelle sono tutte e due? Sì. E tre si mangiano tutte e tu da solo le nocelle, no? Sì. Sì. Scusa, tutte queste nocelle non ti faranno male. Mio nonno ha vissuto fino all'età di 103 anni. Ho capito che cosa mi vuoi dire. Anche lui mangiava tutte queste nocelle. No. Si faceva i cazzi suoi. A me è mo. Io vado a vedere. No. 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 No.